Musica Vuoi acquistare dei giochi a prezzi bassissimi? Passo nel link in descrizione Ciao a tutti salmoni e bentornati sul mio canale Oggi vi porto due giochi Quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine Ditemi cosa ne pensate E niente Mi potete trovare in live su Twitch Quindi andate a cercare il mio canale Twitch con RavdeCobra97 Quindi ragazzi basta seguire il mio dito E mi troverete tranquillamente su Twitch Buona visione Ok non ho idea di cosa possa essere Try harder Invece che try harder Try harder Black cat Oh ma se è un episodio che cacchista d'addio Capitolo 1 Ok Introduzione Ma che cosa No, vabbè. No vabbè No vabbè raga Non ci posso credere È un simulatore di pulizie di ghiaccio Da ok Ma che cazzo Ma che cazzo Sì però mi danno fastidio Quando parlano Mi danno fastidio Quando parlano loro Non ti danno modo di parlare tu Mi danno veramente fastidio Questi tipo di giochi così C'è ma che cazzo Ragazzi i giochi strani li trovo tutti io Non so perché ma è così Cioè io in teoria ho visto sempre fare così Nei film Non lo so Nei documentari Cose Quando fanno vedere Qualche parte in tv Che puliscono il ghiaccio Lo fanno vedere così no Va bene Lo sto facendo un po' il cacchio di cane Mi piace di più quello Va bene Sono passati tipo Tre minuti in cui sto Pulendo il ghiaccio Raga Non avete idea di quello che vuol dire Ma che giochi trovo io Io trovo sempre tutti i simulatori Più strani del mondo Pensate che posso aggiungerlo al mio curriculum Non lo so Io nell'udice lo metterei No preferivano facciare Che cambia Ah che ho chiuso la bocchetta Che si intitolerà Io me e il ghiaccio Il libro è in preordine su Amazon Ok una domanda Cosa avevano in testa I creatori di sto gioco Ma raga Sette minuti così eh Si può sapere Con che cosa vi drogate Che poi non ho capito Cioè lui parla Dice Cioè che Che ti faccio Che ti sei scelto un lavoro Sottopagato Eh Noioso Ok ragazzi Visto che Zamboni Simulator È stata una grande cagata Ok ragazzi ci siamo Oddio Siamo partiti Oh mio dio Ok Ok Ora E ora dove dobbiamo andare Aspetta c'è qualcosa qua Ah Mi penso che lo devo prendere Ah c'è un'altra però Ah ok Ho visto il segnale Ho visto il segnalino Ho visto il villaggio Ok Beh devo dire che tutto sommato Non si guida male Com'è che si Come che Ah control Olt Ok O control Olt Per muoversi Cioè per abbassarsi Perfetto Vediamo un po' Posso accelerare E camminare sull'acqua È uno di quei eri là Ok premendo E Accettiamo la Main quest Or races Main quest La quest Vediamo Eh My plan Bene Ci inalziamo Bene Diciamo che non è proprio un simulatore di guida a livello di aereo Però è comunque figo Carino Ti dà delle quest Rispetto a Zamboni Simulator Raga Non c'è Non c'è da lamentarsi Cioè Zamboni Simulator Mamma mia Cioè Non sono stato 20 minuti a pulire il ghiaccio Pensate voi Siamo tipo a mezz'ora di registrazione Di qui 20 minuti solo ghiaccio Speravo ci fosse qualcosa dopo Ma Quanto pare non c'era nulla Mi dà male Alzati Alzati un pochino Esatto Come back Ok Beh questo già ragazzi Forse quello lo devo raccogliere Non lo so Comunque già ragazzi ci siamo Rispetto a Ok funziona Wow Nande Finish quest Fly with me Ok 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 Seguiamo il tizio Vediamo dove ci porta ragazzi Perché non lo so Però perché ci fanno questo cerchio qua Non capisco a cosa serve il cerchio Non capisco a cosa serve il cerchio Ci sono bro Ci sono bro ci sono Dai Plane simulate Oddio Oddio sta prendendo fuoco Oh mio dio Oh mio dio Torno al villaggio per aiutarlo Andiamo Andiamo Mio dio Ha preso fuoco così al caso Evidentemente l'area Non era pronto Dai Sam L'hai fatto proprio Di fretta Dì la verità Ragazzi il video si conclude qua Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia E Come sempre ci vediamo al prossimo video Bella Ciao